Per me ritornare a Taranto è sempre comunque un motivo d'orgoglio perché giocare davanti a tutta questa gente per me veramente mi inorgoglisce. Da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno e penso che oggi bisogna fare i complimenti a tutta la squadra perché abbiamo fatto di là di un'ottima prestazione ma comunque abbiamo dimostrato che nei momenti negativi non molliamo e quella penso che è la prima cosa. Taranto per me è una piazza molto importante, quello dimostra anche stasera trovare 10.000 tifosi in nessun campo di Lega Roma io credo neanche in Serie B perciò comunque giocare in queste piazze fa sempre piacere. La difesa inizia da davanti, io credo che oggi sia anche Balistrieri ma anche Bollino ci hanno aiutato perché io credo che da lì inizia il pressing ma io credo che comunque bisogna fare i complimenti a tutta la squadra non solo ai difensori.